Io sapete che do una seconda vita alle canzoni, quindi soprattutto insomma rileggo le canzoni, faccio gli omaggi ai grandissimi autori come appunto Pino Daniele, come Nino D'Angelo, un po' la memoria, stasera la memoria non mi ha mai caldo, insomma, voglio dire può capitare. E quindi tra i vari omaggi c'è questo omaggio che io faccio agli alunni del sole, che è una canzone straordinaria e che puoi riascoltare le canzoni, non so se capita anche a voi, ma sicuramente, uno si ricorda in quel periodo lì un amore, uno si ricorda un fatto, e quindi le canzoni ti riportano indietro, quindi è bellissimo riascoltarle, no? Non solo da me ma anche da me. Grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti. Come se non si non mi piace, è un po' la stessa ASMR, Ecco là! I quali sono alcune persone che buono, e il centro del greco, è baseato a cosa fare, ma mammaa... Allora quando in histrano, fanno pausa... Ma devo Ander mantra, e dove si sente quella ele dice che in casa stessi va a fare, perchè la protezione è piccola intentare niente, perché www.arithabili.alogos Non è enorme. Grazie a tutti. Grazie a tutti.